È iniziata a Giungano, presso il Convento Benedettino, la quarta edizione della Festa del Fico Bianco. L'evento, organizzato dalla Proloco, si svilupperà su quattro serate, in cui i visitatori potranno degustare tantissime pietanze a base del gustosissimo Fico Bianco. Inoltre non mancherà l'intrattenimento, con tanta musica popolare. Apprezzo moltissimo le iniziative delle associazioni sul territorio, come questa di questa sera, la Proloco di Giungano, ai quali va il mio applauso per l'iniziativa che stanno promuovendo un prodotto della nostra terra, il Fico Bianco del Cilento, che è stata l'economia dei nostri genitori, dei nostri nonni. E loro stanno riscoprendo questo prodotto, valorizzandolo anche perché è un prodotto DOP della nostra terra cilentana. Quindi plaudo con immenso piacere l'iniziativa di questi ragazzi che vogliono dare un contributo di crescita a questa comunità. A loro dico soltanto bravissimi di continuare su questa strada perché troverà l'amministrazione sempre vicina a tutte le associazioni che vogliono portare crescita, cultura ed economia a questo territorio. Questa sera parte nuovamente questa che è una manifestazione che basa tutto quello che è la sua culinaria sul Fico, ma senza dimenticare quelle che sono le tradizioni, quindi ci saranno anche i piatti non a base di fichi, con la propria variante certamente a base di fichi. Questa è la quarta edizione, questa sera siamo alla prima serata e possiamo vedere una magnifica affluenza, tutti rimangono esterrefatti delle volte per quelli che sono i prodotti a base di fichi, che potrebbero sembrare sapori strani, però poi provando diciamo che rimangono tutti contenti. Ci sarà musica tutte e quattro le sere, gruppi cilentani, quindi un prodotto cilentano accompagnato da musica cilentana, quindi non mancate, noi siamo a Giungano e vi aspettiamo dal 23 al 26 agosto. Ciao! 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 Al prossimo episodio